Cara Telepiu3, sono un povero teleutente zappista che avanza faticosamente nell'arido inospitale deserto televisivo. Telepiu3 appare finalmente dietro l'ultima duna, come l'oasi fresca, ombrosa e ristoratrice tanto agognata. Telepiu3 è sempre lì a resistere coraggiosamente al nulla che avanza, a dimostrare che la televisione intelligente non solo è possibile, ma esiste. Un solo consiglio, continuate così e tenete duro. Perché ricordate, dopo di voi il diluvio. Grazie. 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 Grazie.